Una creatura speciale. Da quanti anni sei nella fede? Credo che lì ci sia un messaggio spirituale. Dobbiamo lavarci i piedi nel senso essere pronti ad umiliarci. Lo diciamo per fede, perché noi vediamo la gloria del Signore. Ilargirò le grazie stabili promesse a Davide. Cristo ti inonderà di luce. Con l'esperienza personale, con il divice, sollevati. Prendo il pello, mi chiede, Dio ti bene, grazie, grazie. Quando ero in media, scuola di media. Una tra le principali è quella con i bambini, facendo il dopo scuola. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta. Ma voi li fate a casa vostra? E' davvero bello ritrovarci a membra delle sorelle. Mettiamoci davanti al Signore. Sentiamo un po' che dice il Signore. Vediamo il tuo nome, Gesù. Terzo giorno, risorse. Guardate, questa è una grande realtà. Il Signore è intervenuto. Il Signore è con me. Il Signore è per il bene dell'uomo. A questo siamo stati chiamati. Il Signore è per il signore.